Sì, questo è il nostro primo concerto e lo facciamo qua all'Università degli Stranieri perché come ha detto abbiamo tanti stranieri, noi abbiamo studenti e maestri da per tutto nel mondo, abbiamo i maestri famosissimi che vengono con gli studenti più promotenti per suonare, per praticare e per fare il concerto ogni giorno a Caligia. Sì, questo è il nostro primo concerto e siamo molto contenti di essere qui.